BELLA RACAZI, BENTRONI AQUI SUL CANADI GRANES, SIAMO QUI Oggi con un nuovo episodio di ROTTO DI VISION ONE Potete vedere la squadra, abbiamo fatto un po' di innesti nuovi come Evra, terzino sinistro, Igualin, punta centrale Poi c'è Caceres in panchina, esatto, Caceres e poi De Rossi, l'avete visto? De Rossi, sì, già c'è stato un po'. Allora, come vediamo qui siamo nella fase un po' critica, perché sono soltanto... No, posso parlare? Ok, posso parlare? Mi fai parlare! Ci sono contanto 5 giornate che sono rimaste, noi siamo a 6 punti soli, intanto bisogna vincere per evitare la progressione, poi vincere un'altra per conquistare il titolo, un'altra ancora per andare in divisione con la promozione di nuovo. Attenzione, vediamo la sua squadra! Oh, il Bordeaux SC, la votazione 77-93! Ma schifo, se non vincere la vostra partita ce ne andiamo, eh? Sì, partono, batte lui, i vecchi trapani subito, impressione! Ma te ti sei aggiunto? No, dai! Mi pareva strano, no, in realtà mi sono aggiunto, però perché non... Sto giocando, giuro! Non si è aggiunto, quindi vabbè faremo un tempo per uno. Oh, no, il bene è che tutti, vedi? Dai, dai, sono scattato, vai, vai! Tutti ti chiedono di giocare in due, poi però con i giochi in due... No, no, giocate in tempo per uno. Gasolino, dimmi un po' che stiamo a registrare, dai! Avanza ancora! I turbi, vecchio trapano, vecchio barattolo, anzi, come lo chiamano alcuni. I turbi e mezzo per Higuain! Dai, ma ci stava Higuain, perché dovevo fare... Perché deve segnare i turbi... Oh, svegliate, vedate un po'! Rigore! Non so perché, non so per come, ma è rigore! Ma, non ho capito, ma come, ma come già le Higuain, ma che cazzo, non è rigore! Ma che vuol dire? I turbi per le palle, per il pelle palla, per la riconquista, i turbi, i turbi, i turbi, i turbi, i turbi, uno contro uno col portiere il tiro! Non è possibile, non è possibile, non è possibile, non è possibile, incredibile! Robber, perché non c'è così! Non c'è così, non c'è così questa cosa... Morata, 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 mamma, ma non basta, un po', mell'implice Messi, mi permesso di pan oposio. Iguain, Iguain, Iguain Avanza, da solo, temporeggia, se ne va, Iguain, per i 10 centrali, Iguain, 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 li cataloghi perché non ci sonoutta, in futuro. è 30 Gonzaloni mamma mia Gonzaloni e Iguain 30 occasioni che la passa di Iguain l'1-2 si chiude eccolo la doppietta personale per Iguain la cross è in mezzo per Iturbe che purtroppo il cross è corto però ancora Iturbe può centrarsi Iturbe Iturbe il tiro Iturbe mamma mia mamma mia che vecchi drama di oggi ragazzi e ancora Diego Lopez spazza Astori la stoppa male bello lo è stoppata bene in realtà e ancora Iturbe la palla per Gonzalo Gonzalo questi sono pezzi questi sono pezzi Gonzalo Gonzalo che cazzo fai tranquillo Gonzalo che cazzo ha fatto bravo bravo ma che hai fatto bene qualcuno se ne sa andato un fallo laterale santo Dio Gonzalo subiore del pallone Gonzalo 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 ti sei 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 capriola per i muri e ora tra poco toccherà a me a fargli fare tre golla tutti a casa perché no no mamma mia niente sei andato quindi anche oggi episodio bonus gioco sempre nel primo tempo no stampato giochiamo in due magari quindi l'episodio è sia una partita uno per uno che una partita insieme lui gioca di più siamo una squadra fortissimi questo c'è tutta l'aroma fatta di gente fantastica cinque giocatori da Roma su undici mamma mia giovinco la formica atomica è forte giovinco eh sì è forza forte oh bene che cazzo è bene ma chi è questo bug? chi è questo nero? porca puttana oh bella la valla per Higuain Higuain che cazzo fai? ma che cazzo verrà? guarda no 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 ah non era per lui però va bene comunque perché c'è da io che ero gervinio avanza gervinio avanza gervinio il tiro ma portaci su wow fanculo sta tiramocerini oh ma come dice il cross in mezzo oh che c'è rigore no vabbè da mamma mia è incredibile non mi sa passere il belino si giuro ma ma mia l'apertura per i turbi i turbi i turbi avanza non ci posso chiederti pure questa la zalla la zalla la zalla col piedi ma ti sarebbe conto gervinio 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 fallo no va bene no no non ci posso chiedere non ci posso chiedere non ci posso chiedere mamma mia che faccio dal belino mamma mia oh che trovo io vabbè questo video è finito pure questo una vittoria della sconfitta tanto che cambia e niente domani ultimo giorno cercheremo di conquistare la promozione eh dai non ci posso chiederemo di conquistare la promozione non ci posso chiederemo di conquistare la promozione che ci posso chiederemo di conquistare la promozione